Per quanto riguarda l'andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-covid, Sileri ha sottolineato che c'è stato un rallentamento e che è anche comprensibile durante le vacanze. Ma ora è l'ultima chiamata, bisogna vaccinare per proteggere la popolazione, ha aggiunto, perché oltre al covid c'è anche il non-covid. Stiamo accumulando prestazioni sanitarie da fare per altre patologie, anche benigne, ma che se non curate nel tempo portano a seri danni. Poi aggiunge, per quanto riguarda il Green Pass, nel corso del suo intervento il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato anche del Green Pass e si è dichiarato favorevole all'ipotesi di estendere l'obbligo ai dipendenti pubblici. Il Green Pass è un mezzo per proteggere, mettere in sicurezza la popolazione, ha dichiarato, ma una qualche estensione del suo utilizzo per incrementare le vaccinazioni, secondo me andrà fatta. Andrei anche oltre, dice Sileri, all'obbligo di Green Pass per i dipendenti degli uffici pubblici. Almeno sopra i 40 anni per incrementare le vaccinazioni, secondo me andrà fatto. Ma non aspetterei ottobre, perché sarebbe troppo tardi, ha aggiunto.